ci siamo un mese dopo ragazzi benvenuti in questo video questo video qua è molto diverso dagli altri video ma molto simile a un video che ho fatto un mese fa di che video sto parlando di questo qua allora come ho fatto a farmi male non lo so e ho perso la memoria e quel giorno lì io non me lo ricordo e non mi ricordo neanche quando sono uscito di casa come ben sapete un mese fa il 2 agosto ho fatto un incendio in moto nel senso sono caduto in moto e mi sono fatto qualche danni tra l'altro se volete vedere le mie ferite e non vi danno fastidio vederle potete tranquillamente andare a vedere il mio reel su instagram mi raccomando seguitemi in questo reel qua faccio vedere tutte le ferite dal naso con i punti e dalle ferite che hanno il corpo quest'oggi quindi vi farò vedere le ferite ad oggi dopo un mese come sono e che cosa mi ha causato questa caduta se mi ha causato tanti danni o no se mi ha migliorato o peggiorato le giornate vi faccio sapere tutto ecco perché visto che su instagram su whatsapp perché è il mio numero mi hanno scritto in tantissime persone mi hanno chiamato in tantissime persone e questa cosa qua mi ha fatto veramente tanto tanto piacere e anche voi su instagram mi avete scritto in tantissime ma veramente in tanti 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 e quindi vi ringrazio molto per questo affetto e per questi messaggi che mi avete scritto partirei nel farvi vedere le ferite qui in fronte avevo una ferita ma ad oggi come vedete c'è soltanto un piccolo segno che non fa neanche male cioè forse si se faccio così un pochettino sento che fa male in questo punto qua ma devo proprio picchiare per sentire il dolore qui nel naso come vedete ho ancora il cerotto la fesciatura chiamatela come volete perché il naso è in questo modo come vedete i punti non ce ne ho più ma comunque c'è un segno molto molto profondo il dottore mi ha detto che volendo questo cerotto qua questa fesciatura qui la posso togliere però io ho detto che appunto se io non ho questa fesciatura qua questa questa benda chiamano celotto banalmente celotto e se io non ho questa qui dopo un po' mi inizia a far male quindi mi ha detto se riesci toglila e nel caso ti fa male mettila se ti senti più sicuro però comunque volendo potrei stare tranquillamente senza questo qui anche se io non mi sento molto sicuro perché ho paura magari di fare un movimento sbagliato andare a sbattere contro qualcosa e quindi prendere dentro ho un po' di paure quindi probabilmente lo tengo che mi sento più sicuro magari anche se ce l'ho e vado magari a sbattere contro che ne so sono contro qui faccio così so banalmente vado contro qualcosa contro uno spigolo anche così mi faccio male però non so mi sento più sicuro e sono più sicuro per il mio zona faccia l'abbiamo fatto vedere come ho detto nello scorso video dove ho spiegato cosa mi è successo e vi ho detto che ho perso la memoria perché appunto cadendo in moto mi si è tolto via il casco anche se era legato da quello che mi è stato detto cioè poi presumo che sia stato legato perché appunto ho perso la memoria non mi ricordo però credo che era legato perché io lo leggo sempre anche se devo fare un metro lo leggo io e ma veramente cioè faccio un metro e lo leggo però se comunque si è ganciato e si è tolto e quindi ho sbattuto la testa sbattendo la testa ho perso la memoria e mi ha causato tanti danni questo questa perdita della memoria non tanti danni però secondo me da quando ho sbattuto la testa quando ho fatto questa caduta qui e primamente mi dimentico più facilmente le cose nel senso che magari il giorno prima penso a una cosa che devo fare il giorno dopo e il giorno dopo non me la ricordo più ok ok mi capita anche prima capita a tutti però a me capita sempre cioè mi dimentico so già che mi dimentico infatti me le devo segnare ormai le cose me le segnavo anche prima sì però adesso me le devo segnare più frequentemente perché me le dimentico subito cioè proprio non è magari è una mia impressione non lo so però io ho notato sta cosa qua comunque cioè però la testa non mi fa male cioè io posso tirarmi i pugni che voglio e non mi fa niente cioè fisicamente non mi è successo niente per fortuna direi il problema che appunto è questa cosa qui da memoria che appunto sento questa mancanza qui per quanto riguarda tutte le altre ferite nel mio corpo devo partire dal braccio che è quello che vi posso far vedere in questo esatto momento come state vedendo adesso il mio braccio ovvero il peggiore dove visivamente era il peggiore e come vedete ormai è tutto a posto praticamente ne so che è rimasta una piccola crosta in questo dato punto e anche qua è rimasta una crosticina che vabbè non riesco a togliere perché è ancora ben attaccata idem questa qua non riesco a togliere però come tutte le altre sono tolte ovviamente e sono più chiaro perché c'erano tutte le croste non mi posso abbronzare non posso fare niente di che ancora si devono guarire al 100% si devono guarire ancora al 100% però comunque tutto sommato è a posto a parte che con questo braccio qua non riesco a fare non riesco a stendere tutto non riesco a stendere cioè vi faccio vedere questo qua è il massimo che riesco a fare perché già così mi fa male mi fa parecchio male se lo stendo ancora quindi è ripasta perché porca troia ok perfetto ci siamo in questo altro braccio invece ho solo qua un pochettino di ferite ma tutto sommato è ormai è passato tutto non mi fa neanche male di qua e lo sento tirare e mi fa anche male l'osso più o meno qua adesso il punto non capisco qual è adesso mi fa male non mi ricordo quale punto comunque mi fa male un po qua il gomito da qualche parte però beh con calma spero che si risolverà di tutto ecco ah non mi ricordo se nello scorso video dove appunto vi spiegavo dell'incidente non mi ricordo se vi ho detto che non ho niente di rotto non ho rotto nulla però credo che ve l'ho detto ho fatto le lastre dappertutto e non ho niente rotto anche come chi mi segue su twitch e quindi chi mi segue durante le live sai che io faccio dei dick diciamo possiamo definire così con il collo e abbiamo visto che mi hanno fatto la lastre dappertutto il collo non è rotto o non ho nessun problema al collo sono solo ticche che mi sono venuti senza motivo perché non trovo il motivo di questo ticche qua però bene e spero che prima o poi riuscirò appunto a risolvere questa roba qua che a me dà parecchio postivo che ogni tanto faccio questi momenti qua questi questi momenti qua poi nelle ginocchia avevo solo nella ginocchia destra un piccolo una piccola ferita che come potete vedere è questa qua non è grande comunque prima ero più grande adesso come vedete adesso come vedete tutto sommato è guarita c'è solo una piccola crosta se si può definire crosta perché non si può neanche definire crosta però comunque tutto sommato è sistemata e per stare in quella posizione lì dopo appena tolto la gamba sento un po' di dolori alle gambe cioè un pochettino mi fanno male ma neanche più di tanto cioè nel senso a sedermi riesco a sedermi riesco a fare tutto però se tipo faccio alcuni movimenti e sto per tanto tempo ad esempio che so devo prendere qualcosa per te e sto per tanto tempo per te cioè così in questa posizione qua mi fa tutto male il dietro la schiena cioè i fianchi cioè come cazzo si dice la parte bassa della schiena ecco ho sbattuto le gommi da qui qui se sbatto mi fa un po' male quindi perfetto ho sbattuto poi vi comunico anche questa cosa qua che mi ero dimenticato di dirvi comunque a proposito della parte inferiore della schiena appena detto superiore non lo so vabbè parte inferiore della schiena andiamo a vedere quella lì come state vedendo queste qua sono le ferite che ho nella parte inferiore della schiena non sono più croste ovviamente non è curato al 100% ancora perché come ho detto prima dipende dai momenti fa ancora un po' male però tutto sommato rispetto a prima ovviamente è tutto a posto quindi questo sono molto molto felice ma quindi questo incidente questa caduta mi ha causato molti danni sì e no nel senso non è che mi ha causato tantissimi danni esternamente mi ha causato un po' di danni ho avuto cioè facevo fatica inizialmente a sedermi a sbagliarmi a sedermi in macchina nelle sedie faccio fatica ad alzarmi dalle sedie dal letto dappertutto non riuscivo a praticamente muovermi però adesso finalmente riesco ad alzarmi abbassarmi abbastanza abbastanza bene ho solo appunto esteticamente il naso un po' brutto cioè a me a me non piace vederlo così e non so neanche se si sistemerà il naso se migliorerà non so a pari mio no però aspettiamo e vediamo però sono abbastanza sicuro che farò una chirurgia plastica io non sono né contro né pro cioè non mi frega un cazzo su queste robe qua cioè ognuno fa quello che vuole cioè non mi interessa niente cioè io lo voglio fare perché non mi piace il naso com'è e visto che mi hanno anche consigliato all'ospedale nel senso che mi hanno detto che se proprio non mi sentivo di avere un naso così cioè se dopo un po' tra qualche mese non si sistema del tutto mi hanno consigliato di fare appunto la chirurgia plastica per appunto sistemarla al meglio se non lo volevo così e se appunto non ho paura di farla non so come sia la chirurgia plastica non l'ho mai fatta non l'ho mai visto non conosco nessuno che l'ha fatta e non so se può causare danni può causare qualcosa non so niente di niente mi informerò e nel caso la farò o se no nel caso non la farò scrivete qua sotto un commento e fatemi sapere se ha senso farla oppure no se avete comunque ulteriori domande da farmi puoi ovviamente sempre commentare oppure farmeli su instagram o su tutti i social il live su twitch nei commenti su youtube perché no anche su youtube perché no nei direct su instagram specialmente vi rispondo su instagram quando sono in live e quando sono su youtube cioè quando su youtube quando nei commenti ecco non so quanto sia durato questo video comunque spero che questo video vi sia piaciuto grazie mille del supporto grazie mille della visione spero che questo piccolo aggiornamento vi sia stato utile vi ringrazio tantissimo della visione noi ragazzuoli ci becchiamo in un prossimo video vi ripeto se avete volete farmi altre domande mi raccomando commentate o su instagram o in live su twitch in live su twitch molti di voi ancora mi chiedono come sto per l'incidente come sto guarendoci eccetera e di questo qua mi fa tanto tanto piacere non abbiate paura di iscrivermi su instagram o su twitch cioè in chat in live state tranquilli e vi aspetto se avete ulteriori domande ragazzi vi ringrazio tantissimo vi auguro una buona giornata una buona serata dipende da quando state guardando questo video grazie mille del supporto ci becchiamo in un prossimo video ogni venerdì alle 14 o in live su twitch lunedì mercoledì venerdì alle ore 19 o se no ogni giorno qua su youtube escirà uno shorts tranne il venerdì che appunto come detto prima uscirà un video grazie mille della visione ragazzi ciao grazie mille Grazie a tutti